Nono classificato e bolla del tavolo televisivo è Davide Meiga. Innanzitutto comunque complimenti perché è un ottimo risultato. Grazie, grazie mille. C'è un po' di rammarico per non essere arrivato al tavolo televisivo. Sì, dispiace perché quando arrivi a un passo da questi traguardi sarebbe bello poterci arrivare, però va bene lo stesso. Vabbè diciamo che insomma sei uscito con una mano più che scritta, nulla di... non sei stato sfortunato. Hai giocato un colpo. Sì, sì, ho giocato un coin. Lui ha 3-3, io ho asso e 10, sono uno dei più corti, mando addirittura 7-3 subito al flop ed è finita così. Un fortunato gaudioso che ti ha eliminato. Comunque ancora complimenti e speriamo di vederti presto. Grazie di tutto. Grazie a tutti.